Oh oh, down down, oh oh, down down Ogni settimana ormai da diversi anni a questa parte facciamo sempre vedere quello che combina All'MVTrade questo servizio di segnali di trading erogati e di fatto che poi viene pubblicato il resoconto settimanalmente Trade dopo trade pubblicamente sia modo e maniera di vedere tutto quello che è successo E soprattutto le persone che arrivano a contattarmi sono ben consapevoli di quello È un servizio ottimale per chi vuole investire i propri soldi in maniera diversa da quella di protocollo Per intenderci banca opposte, con un rischio molto piccolo perché i drawdown sono sempre stati molto contenuti Con una gestione del patrimonio molto millimetrica È stato sospeso l'MVTrade a novembre 2018 quando non c'erano determinati risultati Quindi non siamo affogati con l'MVTrade Quindi tutto sotto controllo con dei risultati di assoluto interesse L'86% di ritorno netto sul capitale nel 2018 Cosa significa questo? Significa che se una persona a gennaio 2018 aveva 10.000 euro Arriva a fine 2018 con 18.600 euro nel conto E onestamente non mi sembra tanto male considerando i pochi minuti al giorno di immettere l'ordine E il non fare praticamente particolari sforzi Se non quello per l'appunto di richiedere di avere dei minuti al giorno per inserire l'ordine Che ha lo stop loss e che ha il take profit ben definiti Senza trucchi e senza inganni Questo è quello che è successo nel 2019 per quanto riguarda l'MVTrade Fino a questo momento si sta comunque ben comportando Con dei momenti migliori come possiamo andarlo a vedere Il momento migliore di questo 2019 dalla 21 febbraio all'8 di marzo E momenti non particolarmente esaltanti come l'ultimo Dalla 17 alla 27 di giugno Ma come è giusto che sia facciamo vedere tutto nel bene e nel male In modo tale che una persona poi arrivi totalmente consapevole dei prodotti, dei servizi E di quello che ovviamente gli possono dare Gli ultimi due trade Avevamo un trade in sospeso il 12 E quel trade è andato in stop loss Il 16 invece una trade a target Non c'è stato altro in questi giorni Di dai e vai continuo da parte della sterlina contro il dollaro Discese e contro salite Però non c'è stato un gran numero di trade Dalla 5 febbraio l'MVTrade è tornato ad essere attivo su un conto reale 46 trade in profitto 37 in perdita Questo il bilancio fino a questo momento del 2019 Dalla riattivazione del conto sull'MVTrade Del 18% il bilancio dell'MVTrade per l'appunto in questo 2019 Il record dei trade consecutivi in profitto è 8 Il record dei trade consecutivi in perdita è di 6 Il profit factor a 1.24 Il net profit or loss a più 8 La percentuale di win rate alla 55-42% Il rischio di rendimento adottato è di 1 a 1 Trade totali tra simulazione e reale sono 95 54 target 41 in perdita Il 26% tra simulazione e reale Lo stato attuale dell'MVTrade è tornato attivo su un conto reale Un flash sul dollaro canadese contro lo Yen Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi Lateralità sul dollaro canadese contro lo Yen O meglio veniamo da questa lateralità Che è vista meglio da questa inquadratura Vedete il delta completamente laterale In queste situazioni bisogna stare molto attenti A quello che fa la mano forte Perché solitamente va a ripulire sotto e sopra in continuazione Per dare il là ad un impulso ribassista Poi ovviamente noi cerchiamo di intercettare Questo tipo di indicazione che ci dà la mano forte Poi decide la mano forte Ma nel momento in cui pianifichiamo a mercato Un'entrata con rischio piccolino Per andare a prendere un rendimento importante Come ho fatto vedere negli scorsi video È chiaro ed evidente che siamo in una condizione ottimale Per poter avere dei profitti stabili Importanti nel corso del tempo dal trading online Quando siamo in questa lateralità Dobbiamo stare molto attenti Per l'appunto dei movimenti netti diretti Come quello accaduto tra l'11 e il 12 luglio Se noi in questo movimento Ad esempio ci andiamo in maniera ignorante A tracciare pure una trend line In questo modo O meglio una linea obliqua Tanto per andare a prendere il minimo L'11 e poi raccordarlo Con un minimo difficile da trovare Perché ovviamente la salita è stata Impetuosa, netta Ma un minimo il più vicino possibile Alla banda superiore E ci renderemo conto che Arriva sulla banda superiore Arriva sull'R1 Ha raccolto i due massimi precedenti Qui abbiamo molti accumuli di ordini Quindi quando il prezzo arriva A recuperare questi accumuli Bisogna vedere come si comporta Ha recuperato l'accumulo del 10 Questo massimo Ha recuperato il fatto L'accumulo dell'8 L'accumulo del 9 non ha importanza Perché è stato già rimangiato Da quello del 10 Quindi noi dobbiamo stare Ad osservare il 10 E il fatto Il 8 Questi due accumuli Sono stati recuperati Banda superiore R1 E a quel punto In maniera totalmente ignorante Possiamo anche di Mettere in atto Delle operazioni Per andare a recuperare Il minimo dell'11 Sappiamo che in una fase laterale In cui le bande Sono messe in maniera laterale Possiamo assolutamente Fare operazioni di questo tipo Operazioni Veramente che possono portare Dei risultati Notevoli Se ben calibrate Se ben viste Ma soprattutto Se non cercate Ma trovate Perché spesso e volentieri Ma l'esaltazione Di determinati movimenti Poi ci porta A livello Di impulso A vedere delle cose Che non ci sono In questo caso Invece Abbiamo assolutamente Delle condizioni ottimali Come è successo Anche nella giornata Del 16 luglio Il prezzo Da prima Inizialmente Era vicino La banda inferiore Arriva sul livello Di pivot point E ritorna sotto Rimangia i minimi Di giornata E poi Di nuovo su R1 preso Si mangia L'accumulo Del 15 In questa zona Specifica Con questa salita Non scalfisce Questo è un segnale Importante Non scalfisce Il massimo Del 12 Infatti Questo tipo Di movimento Ha fatto sì Che io entrassi In questa posizione Perché Il non andare A recuperare Quel massimo Mi ha dato Un'ottima indicazione In fase laterale Quindi quando siamo In fase laterale Delle bande Assolutamente È un'indicazione Importante Non recupero Il massimo Del 12 Che potrebbe essere Effettivamente Un massimo Importante Che potrebbe reggere Diverso tempo Staremo a vedere Quindi quello Mi ha dato là Per la mia entrata Che ho fatto vedere Nei scorsi video E poi da lì Progressivamente Il dollaro canadese Con movimenti a swing Poco per volta È tornato a scendere Un sali e scendi Continuo Del dollaro canadese Contro Lo yen La finta Questa finta Ultimamente Che c'è stata Tra giovedì E venerdì Come vedete Qui C'è stato Il Cumulo Di Trader Piccoli Che sono stati Fatti entrare Quindi Quando abbiamo Una congestione Come questa Che magari Andiamo anche Ad evidenziare E quando abbiamo Una congestione Come questa Dove non abbiamo Un movimento Diretto Movimento Classico No? Quindi la congestione Si crea In questa zona Alle 5 del mattino Fino ad arrivare Più o meno Alle 17 Quindi 12 ore Quando abbiamo Tanto 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 Di questa Congestione Gli operatori Vogliono operare I piccoli operatori Sono Invogliati a mille Nel volere operare Il mercato stagno Il mercato fermo Crea E fa sì Che ci siano Tantissimi operatori Che non vedono L'ora di operare Quindi quando vedono Una candela Come quella Del 17 18 orario italiano Siamo su FX Pro Come analisi È chiaro Che si Si buttano Si buttano A mille Si buttano In quantità Incredibile Di lottaggi Perché vedono Un'opportunità concreta Ma soprattutto Perché non hanno Operato Fino a quel momento Quindi La tantissima Congestione Avuta In quella fase Fa sì Che in questo Movimento Vengano raccolti Piccoli Medi trader Di ogni Tipo Di ogni Natura C'è la discesa Quindi Come quando a poker Vogliono far vincere Il novellino Che entra Da poco C'è la discesa Quindi c'è la finta Di andare A recuperare Il minimo Di cui parlavo La volta Scorsa Che magari Possiamo anche Rivedere In grafica Eccolo lì Segnato Con la linea rossa Continua Ritorniamo Sulla Nostra Giornata Del 16 Eccoci qui Quindi la finta Nell'andare Al ribasso Il prezzo Poi storna Di nuovo Questa discesa Che cosa va a fare Questa discesa Va a prendere Gli ordini Di breakout E va a prendere Anche Degli stop loss Perché magari Qui Alcune persone Si aspettavano Alcuni trader Si aspettavano Uno storno Rialzista Quindi la tengono Dura La tengono Dura La tengono Dura Quando poi Ad un certo punto Il prezzo Ha di nuovo Questa discesa Molti mollano E non a caso Poi il prezzo Storna In maniera Importante Al rialzo E molto probabilmente Con questo storno Anche i tanti trader Piccoli trader Entrati in corso In questo momento Sono stati Cacciati Fuori Nel momento In cui C'è questa salita Il prezzo Arriva Sull'R1 E poi Violenta Discesa Ancora una volta A recuperare Questi minimi Chi ovviamente Ha seguito il corso E operava Sul dollaro canadese Dollaro canadese Ci si arriva Ad avere Degli ottimi Risultati Anche a livello Intraday E nel medio Lungo periodo Sicuramente Le soddisfazioni Non mancheranno La visione Come dicevo La volta scorsa È assolutamente Ribassista Sul dollaro canadese Contro Lo Yen Ma è importante Fare tutti Questi 2 più 2 Lasciare da parte I Kimoku Cicli Controcicli Tutte queste cose qui Basarsi unicamente Sul prezzo E tutti gli indicatori Oscillatori Che vediamo In grafica Non sono determinanti Per entrare O uscire A mercato Ma sono assolutamente Importanti Per leggere al meglio Il movimento Che sta sviluppando Il grafico Stesso L'ho fatto vedere L'operazione Ne farò vedere Delle altre Operazione a lungo termine Sul dollaro canadese Contro lo Yen Staremo a vedere Da qui Alle prossime giornate Come si svilupperà La cosa Ragionare in maniera lucida Con tanti 2 più 2 Porta A far sì Che ci sia un guadagno Utile e costante Anche con piccoli conti Nel trading Finanziale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.